Cambi di guardia foluminei sul posto destra-sinistra con la tigre agita la coda, il drago agita la coda, il serpente agita la coda, il drago si avvolge e il generale sfodera la spada. La testa del drago emerge dalle onde e il serpente esce dal buco. Grazie a tutti! Grazie a tutti.